Chi è stato il più grande? Il migliore di tutti i tempi? Salve! Volete fare un gioco? Per una buona battuta, piegare bene le ginocchia, piede sinistro in avanti, impugnatura martello, rotazione del busto e a combiolenzio! Che far ragioniere? Si arrende? Si ritira? Io penso di avere ancora delle cartucce da sparare. E dove ce l'hai? Qua dentro. Che far ragioniere? Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Rocky Balboa. Vuoi dire qualcosa? Sei un bel diavolaccio. Un giorno io e te ci potremo sposare. Te li immagini i nostri figli, eh? Ti amo, Homer. Anch'io ti amo, Homer. Un film di Bruce Lagodigarda.